salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video e nuovo episodio della serie di sopravvivenza in minecraft ehi la ciao allora prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non avete fatto lasciate un bel like per supportarmi commentate condividete video canale mi raccomando attivate le notifiche sulla campanellina per essere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video bene ora smorziamo la voce e l'entusiasmo l'entusiasmo possiamo fare a meno di smorzarlo ma almeno la voce vediamo di abbassarla perché ora entreremo in un reame nel quale dobbiamo fare assoluto silenzio se non vogliamo morire malissimo almeno ci proviamo quindi torcia in mano per la luce mele d'oro qui ho le anzi in realtà la torcia non mi servirà pozione di visione notturna in questo caso adesso me ne porto via due dovrebbero essere sufficienti l'altra è ancora vuota le altre schulcher le ho lasciate qui sopra dove ho fatto un portale del nether ho già fatto tutto poi ve lo faccio vedere e direi di buttarci addosso la prima pozione così la torcia non ci servono e ci lasciamo una bella mela d'oro da mangiucchiare e andiamo allora ragazzi sono un po in ansia e non sono mai stato qui e quindi non ho idea non mi ricordo questi come si recuperino ok facciamo un giretto giusto per ho un sacco di paura a qui ci sono quelli per l'evocazione vediamo quanto riusciamo ad avvicinarci uh e la chest allora qua ce n'è uno solo e i sensori lì dietro e sono veloce riesco a questo a buttarlo giù prima che i sensori facciano attivare appunto questo qui è devo quindi ho il warden quindi mettiamoci al limite 3 2 1 via portività 100 ok andiamo a vedere un attimo il progresso appena fatto allora vediamo lo avrà messo dove non lo vedo avventura forse si sangue catalizzatore colpisci qualcuno eccolo qui accovaccia ti vicino a un sensore di shulk o a un sorvegliante per non farti sentire capito i biondi ok questo ok io direi che continuiamo ad avvicinarci e qui c'è un altro blocco ecco togliamolo via e togliamo via anche questo con le pale forse no per questo con la quale la zappa forse forse la zappa mi sarebbe stata più utile effettivamente è che non credo di averne una qui dietro adesso guardo vediamo anche questo ok e per ora siamo al sicuro mamma mia che ansia fioi allora proviamo a mettere giù questo vederselo si ho la zappa ehm edizione seria sfida completata beh andiamo a vederlo dovrebbe darlo qui nell'overworld guarda qui forse dov'è no ah no sarà quello dei campi eccolo qua uso un lingotto di minerite per migliorare una zappa e poi rivalutare le tue scelte di vita no non rivaluterò le mie scelte di vita vediamo se funzionava meglio uh la zappa funziona una grande fantastico potrei ripulire la zona in effetti così guardate usando la zappa potete togliere via tutti e allora nel senso che non lo so comunque la vena di vena di skulk e lo skulk possiamo recuperarne un sacco in maniera super rapida qui non c'è niente qui sotto giusto per fare un controllino no a quanto pare no vediamo un po' che cosa c'è nella cesta allora due sensori di skulk un passo gelato beh è buono un passo gelato non so quanti ne ho un po' di esperienza non è male torce nella mia inutili carbone vabbè targhetta buono e anche questo la sella è buona allora penso che questa è una zona tranquilla per ora direi di ficcarci dentro tutte queste cose qui per tenere l'inventario pulito e recuperiamo anche questa così sono sicuro che l'ho tirata su e andiamo avanti recuperiamo i blocchi che mi dà fastidio lasciarli lì e andiamo avanti vediamo un po' se c'è questa struttura posso entrarci in qualche maniera sento delle fiamme quindi significa che in qualche maniera ci si può entrare ecco cosa ho dimenticato le palline in neve per distraire il warden merda merda sei qui tu lì in alto ce n'è uno porca vacca forse l'ho svegliato porca vacca fioi guardate qui che disastro se ce ne sono 4 5 con quello come cacchio faccio adesso allora facendo estrema attenzione ce n'è uno qui per attivare una candela volante e uno qui anzi no 3 ce ne sono per attivare 4 ai 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 qui la vedo nera la vedo molto 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 nera allora vediamo di stare il più lontano possibile e provare a fare questa cosa qui ok se resto shiftato forse riesco merda togli di tutti via 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 guarda non riesco a buttarlo merda 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 ok sono tornato qui ho recuperato le mie cose e fortunatamente il warden è ne spawnato e e aiuto almeno ho avuto la prontezza dei riflessi di far fuori tutti i cosi per evocar ho parlato troppo presto porca vacca c'era ancora quello lì sull'angolino via 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 mamma mia fioi sono morto sono morto eheh sono morto eheh non pensavo fosse così tanto forte Questo resta quanti danni Due colpi Era massa potente Ok qui non c'è niente No no Ok apriamo le casse E terminiamo l'episodio di oggi Sarà dura Esplorare questo posto Frammento di disco Grande Scheggi di risonanza Lampolla Ossa e i gambali Con la maledizione e la scomparsa del legame Interessante Fisico Questo possiamo toglierla Togliamo questa candela solo perché sta volando E anche questa perché l'ho fatta finire a volare Vediamo qui Sensore Candele Via via Un disco Other side Grande Libro incantato Aspetto di fuoco Protezione Proiettili Uno Passo Felpato Felpato Non è quello per fare silenzio Magari Dobbiamo andare a vedere in effetti Dobbiamo via un paio di Ok Va bene Ragazzi Per questo video Per questo episodio è tutto Vi ringrazio tantissimo Per la visione Commentate Condividete Iscrivetevi al canale Se ancora lo avete fatto Mi raccomando Ehm Sì Sono morto Nonostante Fossi Full Nederite Incantato Questo vi fa capire Quanto Cavolo di potente Sia Il Warden È la prima volta Che lo affronto Ehm Ho come l'impressione Di essere morto Come un novellino Di Minecraft Con il suo primo zombie Ehm Nonostante Penso Sappiamo bene tutti Che il Warden Sia Molto 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 Più potente Di qualunque Altra cosa Su Minecraft Più del Drago Più del Weaver E quant'altro Vabbè Insomma Andremo avanti Nell'esplorazione Di questo posto Ehm Nei prossimi episodi Insomma Poi vi faccio vedere Anche il collegamento Fatto Con Con il Nether Col portale Per raggiungere Questo luogo Vi ringrazio ancora tantissimo Per la visione Noi ci vediamo In un prossimo video In un prossimo episodio Ciao